Conclusa con successo, la settima edizione della Maratona d'Estate Festival della Danza andata in scena dal 22 al 28 luglio, nello splendido scenario naturale di Capaccio Pestum. L'evento, promosso dall'associazione Steps, è stato fortemente sostenuto anche dall'amministrazione comunale. 2.500 gli allievi giunti da ogni angolo d'Italia, ma anche da Malta, Belgio, Francia e Olanda, che hanno partecipato con entusiasmo alla Maratona, capitanata dal direttore artistico, il maestro Stefano Forti e coordinata da Domenico Carfora. Siamo giunti alle due serate conclusive. Questa sera ci sarà l'assegno di Alessio Giglio, un premio che assegniamo ogni anno dopo sette anni. Voglio ricordare Alessio, che è un mio allievo scomparso prematuramente, e questo è per me un grande onore, dedicargli questo premio. Dunque bilancio positivo per l'edizione 2019? Sì, tantissimo. Devo dire la verità che nonostante il periodo non buono per la danza, veramente sono venuti in tantissimi. Quindi siamo contenti dell'affluenza, ma veramente della qualità dei nostri docenti, anche docenti internazionali come Sabrina Bosco, Anna Pavlovich, Robert Maitas, Giovanna Spalice, Vinicio Manini. Te ne posso citare tanti, quindi veramente tantissimi maestri di qualità. Tantissimi anche i giovani partecipanti da ogni zona d'Italia, tantissimi allievi, e i più meritevoli saranno anche premiati. I più meritevoli saranno premiati, anche loro saranno in concorso, vinceranno tantissime borse di studio per l'Italia, per l'estero, quindi veramente per loro è una grande vetrina Maratona d'Estate. La serata conclusiva è stata preceduta da un'intensa settimana di stage realizzati da personalità di spicco del mondo della danza internazionale. Grandissima professionista, Sabrina Bosco, già soltanto il suo nome e cognome parlano da sola, quindi lascio la parola a lei. L'anno scorso, facendo la prima esperienza, ho visto la professionalità dell'organizzazione, il livello degli insegnanti, l'ambiente che è veramente piacevole, è competitivo ma porta una competitività positiva e oggigiorno non è da sottovalutare, perché spesso negli stage, nei concorsi, si sente una grande rivalità. La rivalità nel mondo della danza credo che porti chiusura, non apertura, perché in fondo siamo tutti servitori di una grande arte e siamo abituati da professionisti a confrontarci col mondo, con gli stranieri, con le lingue, quindi ho pensato fosse una bellissima opportunità e mi sono permessa di invitare alcuni dei miei colleghi, come la prima ballerina etuale dell'Opera di Belgrado, Anna Pavlovich. Sono molto felice di essere qui, grazie a Sabrina, che è una buona amica, ma anche una prima ballerina e coreografa. Nell'ultima stagione abbiamo portato in scena insieme la V Parisienne. Amo tanto questi corsi estivi, questa è una prima grande opportunità per i bambini per conoscere molte scuole ed imparare molte cose da insegnanti provenienti da tutto il mondo, ma è anche un'opportunità per gli insegnanti, non solo per i bambini, per capire dove siamo e cosa dobbiamo fare in più. Oggi è il mio primo giorno e spero che andrà tutto per il verso giusto. Ci tengo a ringraziare perché tutto è veramente organizzato bene. È molto interessante lavorare con questi giovani carichi di energia, di positività e trasmettergli la tecnica classica, ma anche il piacere di ballare, l'approccio musicale che rende il movimento diverso. Grazie. 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 Grazie.